Buongiorno e benvenuti a questa rassegna stampa di oggi martedì 29 agosto. Allora che cosa è successo sui giornali? Per me la cosa più clamorosa che è successa sui giornali ne parlano con un fondo il giornale, ne parla Libero, ne parla la verità, ne parlano i giornali di centro-destra, ne parla il Times a Londra, ne parla il Daily Mail. Per me la questione più incredibile che è avvenuta oggi è la questione del bambino, della bambina di 5 anni inglese che è stata affidata in un comune degradato di Londra, è stata affidata, togliendola la famiglia, la legittima famiglia, è stata affidata a due famiglie, perché le croniche dei giornali borghesi non ve la raccontano così, ve la raccontano diversamente con minori dettagli, ho letto il Times questa mattina che è quella che ha fatto lo scoop e racconta le famiglie a cui è stata affidata. La prima famiglia era una famiglia araba che non parlava l'inglese, la bambina parlava l'inglese, era stata battezzata, amava la pasta con la carbonara, quindi con il bacon, amava Natale, Pasqua, essendo cristiana, non so se cattolica, comunque inglese, aveva le tradizioni fino a 5 anni che gli aveva dato la sua famiglia. Beh, insomma, la prima famiglia non parlava inglese e oltre a non parlare inglese aveva la madre velata e la madre velata imponeva alla bambina la cultura araba e soprattutto la lingua araba a Londra. Dopo un po' è stata tolta da questa famiglia, dopo qualche mese, 4 mesi pare, ed è stata mandata in una seconda famiglia in cui le donne che la curiscono e che la vanno a prendere in giro, perché c'è una foto che le ritrae, sono in burca. Sono in burca, secondo il Times di oggi, oltre a averle impedito di mangiare la pasta carbonara qui, che era il suo piatto preferito perché dentro c'è un cibo impuro, oltre a averle detto che averle tolto la collanina con il crocefisso perché il crocefisso è un segno non accettabile. Come disse quell'imam in Italia è un morticino su una croce, ecco, e quell'imam ovviamente ha tutto il diritto di dirlo, ma noi non abbiamo tutto il diritto di dire alcunché sul mondo musulmano perché se ci permettiamo veniamo considerati islamofobi dai nostri sostri amici cattolici. Bene, gli è stata tolta la collanina e non solo gli è stata tolta la collanina, secondo quello che oggi scrive il Times, quando la bambina mangiava per terra, per terra, io l'ho letto oggi sul Times. Allora, il tema qual è? Il tema è che in questo comune, che peraltro era stato gestito, ricorda bene il Times, ma non solo il Times, anche mi sembra la verità, o il Libero lo citano questo dettaglio, da un sindaco, il sindaco di Londra è un sindaco musulmano moderato, viene considerato moderato, ma il sindaco di questo comune, che sarà un quartiere, che sarà un arrondissement, cioè quello che noi chiamiamo una circoscrizione di Londra degradata in cui il 31% è soltanto di britannici, il resto non è di nativi inglesi, il sindaco di questo comune ebbe uno scandalo anni fa per i suoi legami col fondamentalismo islamico. Insomma, io vi ho dato i dati di cronaca, quelli che sono stati iscritti sul Times, quelli che sono stati iscritti oggi su Daily Mail, quelli che sono stati iscritti oggi sui giornali, diciamo, che vengono considerati di centrodestra, il giornale, Libero e la Verità. Poi dopo vado a leggere i grandi giornali borghesi italiani. Beh, intanto io rimango basito, rimango basito, perché rimango basito? Perché, vedete, un errore lo può commettere chiunque, anche l'affidatario in Italia può sbagliarlo da una famiglia pessima, il problema non è qua l'errore in sé, perché se di un errore si tratta, c'è tutto il Parlamento inglese che se ne sta occupando, l'inchiesta del Times sta stirando fuori e generando un polverone, ma è l'atteggiamento, porca miseria, come ha scritto Hulbeck in sottomissione, come ha scritto la Fallaci, come ha scritto recentemente, ve l'ho fatto vedere nella rassegna stampa Robert Spencer, nel suo capolavoro che si chiama Free Speech, cioè l'atteggiamento degli opinionisti, degli uomini di sinistra, dell'international left, come dice Robert Spencer, l'atteggiamento nei confronti di questo errore, cioè sminuirlo, far finta di nulla, far finta che non ci sia niente, sì, una cosetta, tra l'altro dice Luigi Ippolito, oggi nella sua cronaca del Corriere della Sera, dice sì, ma d'altronde sicuramente l'avranno affidato delle famiglie per bene, ma ci sarà stato, saranno sicuramente per bene, però il problema è che sono fondamentaliste. No, il problema non è che sono fondamentaliste, un bambino in una società occidentale che parla inglese, che ha fatto della magna carta libertatum il suo fondamento, che ha la common law, che vive in Inghilterra, che vive in Belgio, che vive in Italia, beh, quello non viene affidato a una donna col burca, perché una donna col burca non è un errore, è un catastrofico omicidio della nostra cultura, non è un errore, non è un errore quello che il Repubblica e il Corriere della Sera fanno finta di dire che si tratta di... no, non è un errore, è un pregiudizio, il pregiudizio è che... e poi dicono chissà quanti bambini musulmani sono stati affidati a famiglie cattoliche e cristiane, e beh, e qual è il problema? È evidente che sono affidati a famiglie cristiane e cattoliche, a chi sono affidati per di più, tra l'altro, le famiglie cattoliche e cristiane di questo mondo occidentale sono laicizzate, temporalizzate, non vanno manco a messa, non prendono i sacramenti, c'è una piccola differenza tra una famiglia cristiana cattolica, cari miei giornalisti, dei intellettuali, tra una famiglia cristiana cattolica dell'Occidente e una persona che indossa il burca, o no? Nelle famiglie dei cristiani cattolici quante persone il venerdì mangiano pesce, non mangiano carne? Quante persone vanno a messa? Quante persone non fanno atti impuri o non li propagandano? Quante persone fanno mangiare per terra? Ma vedete conto che il nostro Occidente, in Danimarca, venne arrestato un italiano perché dava uno schiaffo al suo figlio, mi sembra che in Danimarca o in Svezia un'estate di due anni fa venne arrestato? E noi invece possiamo accettare che un bambino venga dato al burca. Io quello che non sopporto non è tanto l'errore della città degradata nella periferia di Londra, ma è l'atteggiamento della nostra cultura nei confronti di questo errore. Beh, insomma, che volete che sia? Tanti bambini cattolici, tanti bambini musulmani vengono affidati a famiglie cattoliche. No, non è la stessa cosa, non è la stessa cosa. Se noi iniziamo a pensare così, il nostro cervello si è sottomesso, sottomesso, va bene? Ovviamente tutti quanti, ovviamente i giornali cercano di dire, ma non mi rendete conto, in Inghilterra, soprattutto a Londra, solo il 40% si tratta di bianchi britannici. E beh, e qual è il problema? Anzi, è un problema che è solo il 45%, perché se gli altri 55% non si sono adeguati alle nostre civiltà, è un grande problema. E' esattamente questo è il problema. Il problema è che solo il 45% dei londinesi è britannico e bianco. Ma non perché sia bianco e britannico, può anche essere nero, può anche essere giallo. Se ha i valori di un britannico, se ha i valori della magna carta libertà, un può essere di tutti i colori, ma va bene. Questo è il punto, porca miseria! Il punto che non è accettabile se quel 55% fosse col burca. Grazie a Dio non è così. Grazie al cielo il 55% delle persone che vive a Londra e che non è britannico e bianco non adotta il burca. E noi andiamo ad affidare uno dei figli tolto da una famiglia britannica che avrà fatto delle cose disgustose, ovviamente, perché questo è l'altro lato del problema, perché per togliere un bambino mi auguro che abbia fatto delle cose disgustose. Beh, io spero di non vederli affitati. Nel frattempo cosa succede? Noi ci occupiamo della mediazione culturale. La mediazione culturale è un'altra roba che quando a me mi parlano di mediazione culturale, prima negli anni 70 c'era qualcuno che diceva quando parlate di cultura mi viene da sparare. Oggi, ovviamente in maniera metaforica, oggi quando io sento la parola mediazione culturale già mi nervosisco, questi mediatori culturali. Bene, un mediatore culturale sullo stupro di Rimini, sapete che cosa ha detto? Beh, ha detto una cosa semplicissima, ha detto all'inizio fa un po' male, poi dopo però la donna gode, giuro, mi scuso per quelli che mi stanno ascoltando, però insomma tanti di voi, insomma, vivendo su Facebook l'avranno sentita e già sentita. Allora, io trovo questa frase di un mediatore culturale nelle ultime quattro righe del pezzo, sulla bambina di Londra del Corriere della Sera, mentre il Repubblica gli dedica un pezzo e gli altri giornali gli danno lo spazio che merita e mi sembra che questo pezzo nasca dal resto del Carlino di Bologna, perché questo mediatore culturale, questo delinquente, questo delinquente, va bene, questo delinquente dal punto di vista mio occidentale, io non vorrei, cioè abbiamo fatto pagine e pagine su quell'italiano che ha scritto all'handicappato, quell'orribile manifesto dicendo, handicappato, a me chi se ne frega, sono contento che tu sia handicappato perché mi hai fatto fare la multa perché ho parcheggiato la macchina, invece a questo mediatore culturale diamo quattro righe al Corriere della Sera, quattro righe gli diamo. Questo mediatore culturale, tra l'altro, è un dipendente di una società, di una cooperativa, di che si occupa la cooperativa? Di mediazione culturale. Sapete quanto vale il business dell'accoglienza a Bologna? Lo leggo oggi, 24 milioni di euro, 24 milioni di euro, affidate a cooperative che assumono marocchini, questo è un marocchino, si può dire il nome e cognome marocchino di questo personaggio che si chiama G, questo marocchino, bene, questo è un mediatore culturale, dovrebbe fare un mediatore culturale pagato dai contribuenti dei bolognesi per dire che lo stupro all'inizio fa male ma poi dopo insomma fa godere le donne. Allora, anche qui si tratta di un errore, ci possono essere le mele marce, non si può giudicare dall'atto di uno la mediazione culturale, sono d'accordissimo con voi, ma è la l'atteggiamento che noi abbiamo, l'atteggiamento che hanno, come nei confronti del bambino inglese, di sminuire la cosa, ma che volete che sia, un cretino, no, non è un cretino, quelli che mettono la bomba non sono dei lupi solitari, questo mediatore culturale non è un cretino, come scrive oggi il giornale c'è una rete che sta difendendo i quattro stupratori magrebini di Rimini, una rete fatta di spacciatori, di gente della loro nazionalità, grazie al cielo in Italia una rete molto ridotta perché molti o pochi sono venuti in Italia rispetto al resto dell'Europa, sono integrati una gran parte, fanno lavori da italiani, parlano italiano, pensano italiano, quindi sono integrati con la nostra cultura, fanno la nostra pizza e mangiano la nostra carbonara, c'è una parte che non è integrata e che spero che venga isolata il prima possibile, ma il tema è non il multiculturalismo, è integrare queste persone nelle nostre civiltà, che vuol dire integrare i nostri costumi, nei nostri usi, nel nostro diritto, nella nostra legislazione e nelle nostre libertà, va bene? Le coprosse invece si occupino di controllare un po' meglio i mediatori culturali che assumono e forse il comune di Bologna a chi affida i suoi soldi. Ultima questione di giornata, sulla bimba avevo detto tutto, mi sembra, sulla bimba ho detto tutto, altra questione di giornata che mi fa impressione è che è stato raggiunto un accordo ieri a Parigi, non hanno ancora capito perché a Parigi, con Macron, Merkel, Rajoy, Gentiloni e poi c'era nella foto, Photo Opportunity, sempre la Mogherini, che non si riesce a capire cosa faccio nella vita se non mettersi i suoi taglier rossi. Tra l'altro la Mogherini ha un problema e cioè che il più bello, il truccato meglio è sempre Macron. Speriamo di non venire definito sessista per questo, ma è una battuta che prendo oggi in prestito da Ruggeri, che io seguo su Twitter e sul suo blog, in cui dice una cosa è certa, che ieri 3-4 il truccato meglio era Macron. Ovviamente il tema è il costo che per un mese ha fatto il nostro ragazzino per il trucco, pari a 26 mila euro, in una specie di mondo contro le caste, però obiettivamente la spesa di trucco di Macron dà il senso di come sia un po' artificiale questa sua presidenza della Repubblica Francese, decidono di fare gli hotspot in Africa, decidono di andare a controllare in Africa e di fare gli accordi con i paesi africani. Mi sembra che era la cosa che tutti quanti avevano detto fino a poco tempo fa, ma che sembrava non si potesse fare. Gentiloni dice linea finalmente chiara, devo dire che forse non ce l'aveva il governo italiano fino a poco tempo fa la linea chiara, fantastico, oggi il reportage di Repubblica che sta 5 giorni su una nave che cerca profughi che si chiama l'Aquarius, sono disperati perché 5 giorni di ricerche inutili, non ci sono gommoni, piangono perché non ci sono gommoni, finalmente al sesto arriva un gommone, tutti felici che beccano i trafficanti di esseri umani che finalmente piazzano un gommone, d'altronde è il loro business. Ultima cosa, gli occupanti pagheranno, tutti i giornali ormai fanno vedere come la questione di Roma sia molto diversa da quella che ci hanno raccontato i giornali, nei grandi titoli non è stato un problema di polizia, è stato un problema che all'interno di quello stabile di Roma c'era un'associazione delinquere che faceva pagare gli eritrei per stare in quel locale e faceva pagare 10 euro, ci sono le ricevute, insomma un'associazione delinquere altro che illegalità, ha fatto bene la polizia, il questore e soprattutto il prefetto di Roma, una donna, a sgomberare e noi stiamo qua a parlare del fatto che per sgomberare bisogna prima avere una soluzione abitativa alternativa, in questa maniera non sgombereremo mai nulla ed è un incentivo ad occupare, è talmente facile da capire questa cosa che forse uno più uno, due per i nostri politici e burocrati non fa mai, perché ovviamente ad occupare adesso sono le persone più sensibili e più vicine a una certa international left, come dice Robert Spence nel suo libro, in cui siamo tutti, tutti sottomessi. Ciao.